Ancora tre migliori, Cristian Galano decide il test di Pineto con la Ternana. Buon primo tempo, evidente una caratteristica, cercare sempre di fare la partita. Insomma, la proposta c'è, mancano però ancora diverse pedine. A dire il vero le priorità, due difensori centrali, un terzino destro, soprattutto un attaccante di categoria. Dionisi in cima alla lista? Sebastiani risponde così. No, no, ma non c'è nessuno in cima alla lista. Ci sono, ribadisco, questi 4-5 profili che stiamo valutando e poi si sceglierà insieme, come abbiamo sempre fatto qui a Pescara, tra i direttori, allenatore e il sottoscritto. Decideremo nei prossimi giorni e affonderemo il colpo per uno di questi disponibili. Anche perché, Presidente, diciamolo con chiarezza, con un centrocampo del genere, come quello che avete allestito quest'anno, sarebbe un peccato non ingaggiare un attaccante di categoria? Sì, sì, ma è stato il nostro problema dell'anno scorso e cerchiamo di non ripetere lo stesso errore. Asensio è un giocatore che io avevo già preso a gennaio, per la verità, poi non abbiamo fatto altre scelte, quindi ci mancherebbe. Fa parte degli errori che abbiamo fatto a gennaio scorso, però è un giocatore che il Genova ha voluto tenere lì per capire se poteva rimanere anche in rosa loro. Adesso se si riapre la possibilità è un giocatore che può fare al caso nostro. Angella, che sarebbe tra i desiderata, diciamo così, di Massimo Oddo? A me non risulta, ma non che non risulta che sia tra i desiderati di Massimo Oddo, però noi personalmente, noi come società non l'abbiamo trattato, quindi è un giocatore, sicuramente è un giocatore forte per la categoria, però noi non l'abbiamo trattato, quindi questo è quanto al momento. Riccardi? Riccardi venerdì sarà a Pescara. Melchiorri è ancora un obiettivo? Perché tanto li abbiamo detti tutti, mettiamoci anche Melchiorri. C'è anche Federico, ci mancherebbe, però nei prossimi giorni vedremo con i direttori quale sarà il profilo migliore, per lo meno per noi sulla carta, poi dopo il campo dovrà dire se abbiamo fatto bene o male. Oggi però mi sembra che abbiamo visto uno dei ragazzi che abbiamo portato quest'anno a Pescara, a Seter, che credo che abbia fatto nel primo tempo, ma anche nei primi minuti del secondo tempo, una grande partita là davanti. L'ultimo arrivato Fabio Maestro è la grande novità, dal primo minuto in campo nel 4-3-2-1 disegnato da Massimo Oddo, Seter terminale della manovra. Per contro la Ternana che punta al ritorno in B, 4-4-2-4-2-3-1 che dir si voglia, Furlan e Partipilo esterni d'attacco, Torromino alle spalle di vantaggiato. Pescara da subito propositivo, funziona bene l'asse di sinistra, Masciangelo Maestro intraprendente, l'ex salernitana stessa cosa, dicasi per il terzino, spunto e cross al minuto 15 di testa, Seter precede tutti, ma non trova la porta. Ventitresimo, efficace recupero palla di Di Ambo. Franco senegalese, classe 2001, altra buona prova, innescato Galano che in campo aperto se ne va e con un sinistro di grande precisione incenerisce Iannarilli, di fatto immobile. Troppo remissivi gli Umbri che provano a reagire a fine frazione, Torromino mette in mezzo, Providenziale prima Drudi, poi soprattutto Ventola. Ripresa del favero per Fiorillo, busellato al posto di Omeunga. In evidenza il colombiano Seter, leve lunghe, grande fisicità, qualità da contropiedista, ha solo concluso con questo destro che Iannarilli sventa di piede. La ternana si desta, insidiosissima la squadra di Cristiano Lucarelli al quindicesimo cross di Furlan, gesto tecnico di alto lignaggio, colpo di tacco al volo dell'ex Daniele Vanteggiato, cui però del favero risponde con un riflesso da applausi. Super parata del classe 98, preso in prestito dalla Juve, un altro grande intervento dopo quello sfoderato su insigne venerdì scorso a Napoli. Gli ospiti insistono, punizione da destra e grande chance cestinata dall'uruguaiano Cesar Falletti, più o meno simile all'opportunità non sfruttata al ventesimo da Galano, assistito da Masciangelo. Pescara batte ternana 1-0.